Impadronisciti del tuo filo e potrai tornare al momento esatto in cui Zeus ti ha tradito. Per gli dèi, finalmente! Mi sono fatto largo tra i guardiani dell'Ade e sono fuggito strisciando dalle fiamme degli inferi per cambiare il mio destino. E come ricompensa, le sorelle hanno posato il loro sguardo su di me offrendomi il solo obiettivo della mia vendetta. Kratos! Il servo di Ares! Ricordi quel giorno spartano? Non lo dimenticherò mai! Questa volta, fantasma di Sparta, sarò io ad avere la tua testa! Ho 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 ha 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 ha! No, no, no. 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 No, no, no.